Bene, facciamo un quadro finale con le moderne e tutti gli istituti del secondo anno mentre ringraziamo Alessandro Bertini per l'Istituto Modern Tech Sabrina Careglia per il Museo Piaggio tutti i fotografi e tutti coloro che sono stati presenti quest'oggi al workshop di Modern Tech a seguire il buffet Grazie a tutti Grazie a tutti